Dimmi cosa c'è, cosa c'è, che non va, sarò il tuo psicologo, tu la mia città, dimmi dove vuoi, resta qua, sarò il tuo primo piaccio, tu sarai la città. Passano gli anni, ma tu resti sempre uguale a me, va bene così. Torna Sesio e lo fa con Croce, il nuovo brano tratto dalle piffiori, prodotto da Giuseppe Dell'Utri e distribuito da Artist First, il video in 3D è realizzato da Aurea Lab Digital Studio, la regia di Roberto Gallà. Ed è proprio Sesio che torna a raccontare il mondo dei ragazzi con la freschezza che lo contraddistingue e con una nuova identità tutta funk da scoprire. Il brano è uscito oggi sulle maggiori piattaforme ed è lui che a distanza di un anno da Mon Amour si racconta nella trasmissione di TFN Il Punto. Sono tre le parole che collega al brano. Se dovessi descrivere questo lavoro degli ultimi quattro brani con tre parole, come le descriveresti? Novità, freschezza e consapevolezza. La vedo come la focus track dell'EP, perché sia che è quella più lavorata, più elaborata, sia perché diciamo che alla fine al livello di testo non cambia molto tra le canzoni, però è il modo in cui suona, in cui arriva una persona. Sono molto contento veramente. Ciao! 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 Ciao!